Sono grato per sempre all'Italia per avermi dato questo ruolo, questa possibilità di essere famoso come è successo e anche per avere una carriera internazionale perché tutto è basato sul successo di Sandukan. Per questo Sandukan rimane centrale nella mia vita non solo per tutto quello che ho ricevuto da Italia e Europa ma anche dal mondo per questa carriera internazionale. Quella che rimane nel mente di tutto è il salto contro il tigre, anche le scene di amore fra Sandukan e Mariana, anche le scene di colera, anche le battaglie sulle navi, sul mare malesiane, anche scene di azione nelle giungle malesiane. Ho incontrato loro sei mesi fa a Roma, nel film festival di Roma e anche ho invitato loro per share and share a Roma. No, la Carol non può venire perché sta facendo un viaggio in America ma penso che Filippo viene e sicuramente Guido e Maurizio di Angeles vengono e anche Andrea Giordana e figlio di Adolfo Celli, tante persone di Sandukan vengono per aiutarvi in questa missione per dare pubblicità e guadagnare soldi.